Buongiorno a tutti. Il nostro mondo è uguale a quello degli altri bambini, scuola e giochi. La mia vita è quella di mia sorella, ci sono state regalate solo perché eravamo di un'altra razza. L'unica razza che io conosco è quella umana, Albert Einstein. L'unica razza che io conosco è la mia sorella, ci sono state regalate solo perché la religione ci dovrebbe separare. Quindi, chi sono Penny e Baby? Cosa racconta il Cielo Cate, Lorenza? Poi dopo ti faranno le domande. Adesso spogati perché dopo... Cosa hai provato quando sono arrivati i soldati? Quando sono arrivati i soldati noi non abbiamo capito che era così tragico perché hanno chiesto se potevano prendere una parte della villa. E quindi, anzi erano molto gentili, generali e ufficiali. Chiedevano all'ozio se potevano prendere una parte e gli diceva di sì. E spesso chiedevano se potevano suonare il piano perché erano persone che suonavano il piano. Penny e Baby, le bambine del mondo, unite da urla, unite da chi è sordo. Un carabaccio ci coppò e ci mette sul cuore, una bomba scoppiò. PORRORO 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 PENDI E BENDI PORRORO PORRORO PENDI E BENDI PORRORO PORRORO PENDI E BENDI PENDI E BENDI PORRORO PENDI E BENDI PORRORO PENDI E BENDI E ricordatevi questo, voi siete i testimoni perché conoscevano, avete conosciuto questo progetto. E voi avete questo compito di stare vicini, di vigilare in questo mondo, affinché questo benessere che ci abbiamo, la nostra... ...di dettagli che ancora non conoscete, che non sono complessive, ma cucini e amici denti. La zia Vaglia, che è una bellissima tiprice, lo zio Arthur, il suo vento... Da oggi a tavola parleremo soltanto nella lingua, comprensibile da tutti. Grazie, Ziavila. Grazie a te, Ziavila. E' tedesco. Un mio sogno. Questo è il tema di oggi. Scrivete. Eccola qui. Non è vero, sai che non credo alla vita interna, anche quello di tutto. Credo anche che per onorarlo sia necessario, innanzitutto, avere rispetto per se stessi. Sì, sono io prego. Amirizu a coraggio. Signora. Sì. 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 Sì.